ANSA, Roma, 15-8, Forza Italia è un partito nazionale, e come tale al Nord, e al Sud Uniti per vincere. Di più, il Sud è fondamentale per vincere, perché al Nord con la Lega Forte la vittoria è facile, mentre nel mezzogiorno dove la Lega non c'è o c'è in minima parte tutto il lavoro deve essere fatto da Forza Italia. Lo ha detto Renato Brunetta, presidente dei deputati di Forza Italia, intervistato da TGCOM24 a margine della conventione azzurra pronti a governare, in corso a Ischia. Per questo motivo, ha aggiunto, Berlusconi ha ragione. Uniti si vince, con una Forza Italia fortissima. Il centro-destra unito è già la prima coalizione con il 35-36%, tuttavia penso che, dopo le elezioni siciliane, possa arrivare al 40% in tutta la penisola. Le elezioni siciliani, infatti, sono un abbrivo, un catalizzatore, perché, qualora dovesse funzionare nell'isola, quel modello funzionerà, anche nel resto dell'Italia. Insomma, le prospettive sono assolutamente positive.